Buongiorno a tutti, un saluto cordialissimo al vicecapo del dipartimento, al direttore della formazione e soprattutto a tutti i corsisti presenti questa mattina. Ho accettato veramente di buon grado e con grande piacere di poter essere qui con voi quest'oggi a inaugurare un corso di formazione importante, perché la formazione è importante in sé per il contenuto di questo corso. Vorrei dire soltanto due parole su questi due aspetti, il ruolo della formazione perché mi sta particolarmente a cuore e il significato di questo corso sui lavori di pubblica utilità. Lo sanno bene tutti coloro che hanno interagito con me in questo anno nel Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria, quanto ritenga centrale l'aspetto formativo. Forse un po' per deformazione professionale, dopo tutto sono un professore universitario, ho dedicato la mia vita alla formazione universitaria e credo che sia davvero uno degli aspetti cruciali della vita di un paese, non soltanto per le generazioni che verranno, ma anche per la solidità della convivenza sociale e civile. In particolare la formazione professionale iniziale e continua in un mondo complesso come è quello dell'amministrazione penitenziaria per me riveste un ruolo cruciale per tre motivi. Il primo fondamentale decisivo è che le leggi, i principi, le riforme, le innovazioni vivono innanzitutto nella testa e nel cuore delle persone. Ciò che fa la differenze sono le singole persone. Noi possiamo scrivere interi capitoli, interi testi legislativi, la stessa Costituzione non può vivere nei suoi principi, nella realtà effettuale, non può cambiare veramente il corso delle cose, della storia, se non attraverso persone che hanno fatto propri quei contenuti. Per questo ritengo che la vera differenza passi proprio da qui, dalle scuole di formazione, dai momenti di riflessione comune che possono nutrire la qualità e la professionalità di chi poi è chiamato a rendere reale ciò che noi talvolta scriviamo soltanto con intuizioni, con riflessioni teoriche nelle leggi, ma che poi devono diventare realtà grazie al lavoro quotidiano di chi è chiamato a portarli nella vita quotidiana. Il secondo motivo per cui credo profondamente nella formazione è che la formazione è motivazione professionale. Noi tutti abbiamo bisogno, sempre e comunque, nel nostro percorso professionale, di vedere un oltre una meta a cui tendere, nuovi traguardi, nuove prospettive. In fondo il cammino professionale è proprio un cammino, uno sviluppo. La quotidianità ripetuta, sempre uguale a se stessa, non ci sostiene nel nostro lavoro. E io credo che la formazione sia proprio un luogo dove impariamo a sospingerci sempre verso un oltre. Da qui, verso queste mete nuove, prospettive sempre innovative, viene la vera motivazione che ogni giorno, nonostante le fatiche, le difficoltà, lo scoraggiamento che c'è nel lavoro professionale di ciascuno, ci permette ogni giorno di ricominciare con rinnovata energia. Il terzo motivo per cui credo che, in particolare nell'amministrazione penitenziaria, la formazione sia decisiva, è legato a qualcosa che già il direttore generale accennava poco fa. Nel mondo della detenzione, negli istituti penitenziari, c'è una grande ricchezza, ma c'è anche tanta dispersione di questa ricchezza, che talora non diventa un patrimonio comune. Ci sono tante esperienze virtuose, legate molto spesso a delle iniziative meritorie, incommiabili delle singole persone che colgono occasioni, vedono necessità, provano a dare delle risposte a partire dalle realtà in cui sono immersi, che rimangono troppo poco significative nel loro complesso. Allora io credo che il momento della formazione è anche un momento, e spero che i corsi siano sempre strutturati anche in modo tale da lasciare dello spazio, per imparare l'uno dall'altro, per scambiarci esperienze, perché molto spesso le più grandi e significative novità nel mondo della detenzione e dell'esecuzione della pena in generale nascono dal basso, da piccoli esperimenti che danno buona prova di sé e che possono contagiare positivamente tutto il mondo che ci riguarda. Allora io credo che la formazione sia proprio un luogo di stimolo a sperimentare, a diventare ogni istituto penitenziario italiano un luogo di sperimentazione di best practice, non per omologarci, ma per mettere in comune i principi, le linee di fondo e poterle poi inverare ciascuno nella realtà in base alle situazioni date, alle occasioni, al tipo di istituzione, di territorio con cui interagiamo. Allora la formazione è anche luogo di unità, di coesione fra le diverse istituzioni che compongono questa nostra galassia, luogo in cui la frammentazione, la diversificazione diventa una ricchezza per tutti. La seconda osservazione che vorrei fare riguarda proprio il contenuto di questo corso di formazione che riguarda il lavoro di pubblica utilità introdotto in modo sistematico nel 2018 che già è diventato un modello anche all'estero, come abbiamo già sentito, in Messico innanzitutto, ma ben presto forse per tutta l'America Latina. Raccolgo le parole di una persona, Samir, che qualche settimana fa è salito sul palco della Formula E per rendere una testimonianza del lavoro che aveva svolto. E tra le cose che aveva sottolineato è il nuovo senso che recuperava il suo tempo dell'esecuzione della pena. Senso, un bisogno di senso. Io credo che questo sia un po' il cuore del mettere al centro il lavoro nel tempo della pena. Lo sanno bene i responsabili del Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria quanto io tenga insieme alla formazione e allo sviluppo delle possibilità di lavoro che in questo nostro tempo, anche grazie alla sinergia con altri ministri, si stanno aprendo per molti detenuti. E mi auguro davvero che possa diventare una realtà normale del nostro pensare all'esecuzione della pena. Perché il lavoro dà senso in una pluralità di significati, intanto perché riempie di contenuti la giornata. Sappiamo bene quanto il vuoto, la noia, l'aspettare soltanto che arrivi a sera non giovi a nessuno, né a chi deve eseguire la pena né alle condizioni generali del carcere, alla sicurezza, alla sua funzione di rieducazione. Ma senso e anche utilità, dare un contenuto costruttivo a quel tempo della pena. Io credo che tante volte tutti noi abbiamo sentito quanto è importante per chi è chiamato a servire una pena per quello che ha compiuto poter dare un significato a quello che compie, una capacità di incidere positivamente, di dare un contributo anche costruttivo, di restituire qualche cosa. E senso e anche direzione al tempo, andare verso qualcosa, andare verso un rinserimento. Ora, i lavori di pubblica utilità con tutte le loro sfaccettature, quelle attività semplici ma decisive per la vita di una città, il giardinaggio, la cura del verde, la manutenzione delle strade. Io ho in mente di aver firmato un protocollo importante nella mia città, Milano, per il risanamento di una delle zone che era divenuta più degradata, il boschetto di Rogoredo. Ecco, io credo che abbia un valore in sé e un altro valore simbolico. Un valore simbolico perché è un pezzo della città che rinasce proprio grazie al lavoro di chi vuole restituire qualcosa, la convivenza civile alla quale aveva sottratto cose significative e aveva lasciato un contributo negativo attraverso il suo agire. Il lavoro di pubblica utilità è pieno di potenzialità. Io spero che, uscendo mano a mano dall'emergenza, dalle privazioni di questo tempo di pandemia, possiamo veramente far riprendere in mano tutti quei protocolli e svilupparne ancora di più nel contesto, inserendoci nei territori. Il lavoro di pubblica utilità nasce se il carcere è in grado di interloquire con le altre istituzioni della città, con gli enti locali, con le università, con le scuole, perché il lavoro di pubblica utilità è formazione, prima ancora che azione, dei singoli detenuti. Io credo che questo sia veramente un fiore all'occhiello, una possibilità molto significativa della nostra concezione della pena, anche perché, e su questo concludo, proprio questa rete che si crea intorno al lavoro di pubblica utilità, il carcere, gli enti locali, i luoghi di formazione, le varie realtà, il volontariato, diventa un luogo di responsabilità per tutti. Dove c'è una pene da eseguire, c'è una persona che avverte la propria responsabilità nei confronti della collettività, ma c'è anche una collettività che si fa carico unitariamente e coralmente del recupero di ogni singola persona. Vi auguro veramente buon lavoro, credo che in queste giornate possiamo avviare un percorso davvero di speranza e luminoso per l'esecuzione della pena. Grazie.